Sindaco, una bella iniziativa quella di oggi a Treglio, in collaborazione con la Ecolan ci sono i bambini, parliamo di questo progetto. Sì, è praticamente sintetizzato in questo incipit quello che oggi avverrà. Oggi è una giornata speciale perché è una giornata dedicata all'ecologia, al contenimento e al contrasto dell'abbandono di rifiuti e soprattutto all'educazione civica, in modo particolare ambientale, per i nostri bambini della scuola dell'infanzia e scuola primaria di Treglio. Io ringrazio l'assessore Di Renzo, Giuseppina, assessora all'ambiente, ringrazio tutto lo staff dell'Ecolan, dal presidente ai dirigenti, a tutti gli operatori perché in questi giorni si sono occupati di creare le migliori condizioni per poter insegnare ai bambini che l'abbandono di rifiuti è sbagliato, che ci sono delle azioni che bisogna mettere in campo per cercare di prevenire e contenere questo fenomeno e poi lo facciamo anche attraverso quella che è una piccola inaugurazione simbolica del mangiaplastica, un modo proprio per cercare di incentivare attraverso, in questo caso, un distributore dell'acqua che dà premialità diretta, immediata, a chi conferisce il PET, quindi le bottiglie di plastica che possono essere di qualsiasi contenuto, ma anche, per esempio, gli involucri della pasta che noi ogni giorno utilizziamo, attraverso questo QR code viene letto il codice a barre e viene caricato un punteggio. Questo può essere scaricato attraverso, per esempio, in modo immediato, a fianco, un distributore dell'acqua che è filtrata, che sarà un modo per premiare il cittadino in questo ciclo virtuoso. Quindi è inutile prendere e abbandonare il rifiuto. Il rifiuto ha tutta una sua organizzazione. La Ecolan è bravissima, il Comune di Treglio si impegna affinché la raccolta differenziata sia un valore assoluto per dei principi che comunque sono il rispetto dell'ambiente e soprattutto il rispetto dei nostri beni comuni, i quali, per esempio, i boschi. Oggi andremo in una porzione di Treglio boschiva, dove purtroppo in tanti hanno l'abitudine di abbassare il finestrino e buttare i rifiuti. Abbiamo tutte le possibilità. Per farlo in casa comodamente, per quale motivo lo dobbiamo fare in un modo illegale? Presentiamo oggi uno dei primi progetti sull'ambiente, sulla tutela dell'ambiente e sul rispetto dell'ambiente, in particolar modo sul contenimento dell'utilizzo della plastica e andremo con le scuole a ripulire un sito, dove purtroppo c'è stato l'abbandono dei rifiuti. Questa sensibilizzazione deve partire dalle scuole dei bambini e in questo progetto ci ha dato manforte la scuola e tutto l'istituto comprensivo, nello specifico le scuole che abbiamo qui sul nostro territorio, che sono la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. La scuola partecipa, come spesso succede con l'amministrazione comunale, per quanto riguarda queste tematiche importanti, come in questo caso l'educazione ambientale, che a scuola è una pratica quotidiana che i bambini seguono, non solo per la raccolta differenziata, ma anche sul rispetto e amore verso la natura e gli animali. E oggi siamo presenti con diversi manufatti e anche con una canzone sulla terra. Quanto è importante creare una cultura del rispetto dell'ambiente, sin dalle scuole, sin dalla tenera età? Noi docenti pensiamo che sia importantissimo, ovviamente in collaborazione con la famiglia, perché la rete deve essere unica, diciamo, quindi scuola, famiglia e amministrazione. Ed è importante perché i bambini vivono questa cultura come pratica quotidiana, quindi ogni giorno c'è il riciclo della raccolta differenziata e con questo progetto specifico dell'e-twinning c'è stata proprio la raccolta differenziata, però riutilizzata per creare dei manufatti artistici in collaborazione con le famiglie. Il nostro istituto ha partecipato al progetto COA Kids of Out, che è un progetto e-twinning, quindi europeo, con altre nazioni, la Turchia, la Romania, la Polonia e la Giordania. E il progetto ha come focus proprio il riciclo creativo, quindi i bambini insieme anche alle famiglie hanno realizzato una serie di manufatti artistici utilizzando materiali quali residui di cibo, metalli, plastica, eccetera, tanti elaborati. Ecco, quindi il rifiuto che non è più un problema ma diventa una risorsa. Certo, diventa una risorsa anche a livello proprio di creatività, di fantasia, insomma per noi è sicuramente una risorsa. Fin dall'infanzia noi insegniamo ed educhiamo ai bambini non solo il rispetto ma anche la gestione di tutte le risorse possibili. Quindi applichiamo una didattica outdoor e quindi questo facilita a far capire ai bambini, a far vivere l'importanza della terra, dell'ambiente, di un ambiente pulito. E non solo comunque con le normali attività che si svolgono all'esterno ma anche proprio con una condizione di causa in uno smaltimento, in una raccolta differenziata, in un riutilizzo anche del materiale di scarto che a noi si presta molto bene per le attività manipolative.